L'isola dei famosi 2018 anticipazioni cast, ecco chi sono i concorrenti di quest'anno terminata la seconda edizione del Grande Fratello Beat 2017, ecco che in casa Mediaset si pensa già a quello che sarà il prossimo reality show, che andrà in onda su canale 5. Parliamo dell'isola dei famosi, che tornerà nelle mani di Alessia Marcuzzi in prime time, le anticipazioni rivelano che proprio durante la finalissima del GF Deep di questo lunedì sono passati i primi promo ufficiali della trasmissione, dove veniva annunciato che il reality show sarebbe tornato in onda da gennaio 2018 in poi. Ecco quando riparte l'isola dei famosi su canale 5, nel dettaglio possiamo svelarvi che la data d'inizio della nuova isola dei famosi 2018 è fissata per lunedì 22 gennaio alle ore 21 e 30, come ben saprete, però, spesso i palinsesti delle reti generaliste subiscono degli scossoni e quindi non si esclude che la data possa essere anche posticipata di qualche settimana. Intanto, però, sono arrivati i primi nomi ufficiali dei concorrenti del cast di questa isola dei famosi 2018 che sono stati scelti per prendere parte alla trasmissione di canale 5. Le anticipazioni di queste ore, infatti, rivelano che tra i nomi diffusi in queste ore sulle pagine del settimanale, chi emergono dei concorrenti decisamente interessanti che potrebbero dare vita ad una buona edizione dell'isola dei famosi 2018, in grado di attirare l'attenzione del pubblico e magari registrare ascolti record come è successo quest'anno con il grande fratello VIP vinto da Daniele Bossari. I nomi dei primi concorrenti dell'isola dei famosi 2018, ebbene possiamo svelarvi che nel cast di questa nuova isola troveremo la bellissima modella e showgir Cecilia Capriotti, protagonista qualche anno fa di un calendario bollente che ha fatto perdere il sonno a milioni di italiani e poi ancora è stata ingaggiata la bombastica Francesca Cipriani, che ha alle spalle già diverse partecipazioni a reality show mediaset. E ancora vedremo sbarcare in Honduras anche la bellissima Brigitte Nielsen, che ha preso parte già a diverse edizioni dell'isola dei famosi in altri paesi del mondo. E ancora dal mondo di uomini e donne dovrebbe arrivare l'ultima tronista di questa edizione Sabrina Gio e la bellissima Rosa Perrotta, uno dei molti più amati della trasmissione di Canale 5. Dopo la delusione d'amore, che gli è stata inflitta da Cecilia. Grazie. 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 Grazie.